E intanto vediamo cosa succede dalle altre parti. Grazie. Allora. Adesso ci prepariamo per questo brindisi. Ci sono tre bellissime ragazze che vengono qui. Ci sono pronti con i bicchieri, voi? Ce l'hanno, ce l'hanno a tutti, eh? Andiamo. Eccoci. Auguri. Auguri. Buon anno, buon anno a tutti. Auguri. Auguri davvero. Auguri. Auguri. Auguri.